Grazie a tutti La tenacia degli abruzzesi con la capante fiducia nel futuro proprio padre mi ha lasciato in realtà e qualcosa che è radicato nella gente di qua. Non ho mai visto un abruzzesi arrendersi, non ho mai visto aspettare che arrivasse un salvatore da chissà nome e verrà un domani migliore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È il partner che abbiamo identificato più affidabile, più disponibile e con cui abbiamo trovato la migliore comunanza di interessi per sviluppare i traffici al centro-sud Italia e questi sono traffici che vanno dal centro verso la Francia, verso l'Europa. Per cui abbiamo affidato a loro dei treni, noi siamo una società internazionale, noi offriamo un network europeo e questo può essere un vantaggio per San Gritana. Noi siamo posizionati nel nord Italia e San Gritana è forte nel centro-sud Italia e quindi in questo senso siamo assolutamente complementari. e hanno una qualità unica, come è testimoniato dai primi treni che abbiamo avviato, con grande soddisfazione ai nostri clienti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.